Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ho trovato questa novità al supermercato, Intervalli Baiocchi Mulino Bianco. Ecco qui all'interno di questa scatoletta c'è un pacchetto di Baiocchi e un succo yoga. Adesso lo apriamo, costa un euro in offerta. Rimuoviamo lo scotch. Ecco qui, guardate anche i disegni dentro che carini. Ecco qua è un pacchetto con tre biscotti, quindi è il pacco da tre biscotti dei Baiocchi e poi c'è un succo yoga gusto pera. Eccolo qui. E non c'è più nulla, quindi per uno snack quando si era a lavoro, a scuola, all'università, beh è davvero comodo. Biscotti più succo di frutta contenuti in questo box, davvero davvero carino. Bella iniziativa da parte di Mulino Bianco. Detto questo ragazzi, iscrivetevi al canale per non perdervi questo e tanti tanti altri contenuti. Lasciate un bel mi piace a questo video, commentate questo video, condividete questo video. In the box ci sono i link alle pagine Facebook, Instagram e TikTok e c'è anche il link al blog, seguitemi anche lì e noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli!